Io sono Claudio Ferrari e lavoriamo alla Pietrollare. Io mi chiamo Fabrizio Ferrari e lavoriamo insieme a lui e lavoriamo alla Pietrollare. Sono praticamente 30 anni che lavoriamo insieme. Abbiamo aperto la nostra ditta nel 92 e io partecipo alla FIA dal 90. Io magari un po' prima perché insieme a mio padre che ci portava in fiera e quindi anche noi come da bambini davanti al banco magari mio padre ci lasciava un angolino per poter mettere le nostre cose e da lì cominciamo a apprezzare, a amare la FIA di San Torso. Quest'anno io porto il bimbo che guarda fuori perché siamo nel periodo che uno non può uscire di casa quindi è lì che guarda fuori dalla finestra e si emoziona magari perché prima i bambini computer, giochi, tempo libero, non avevano mai tempo magari adesso magari si ha più tempo di magari vedere un nido con dentro due uccellini ed emozionarsi per questa cosa. Io l'ho rappresentata così, magari con una radica in legno dove figura bene, rappresenta di più l'opera. Io invece praticamente, adesso sono un po' di anni che abbiniamo praticamente la pietra con delle radici di castagno e abbiamo preparato due personaggi nuovi che c'era il bambino sull'altalena e l'amica, ok, che gli legge una storia mentre sta andando in altalena. Proprio la libertà, anche dei piccoli giochi, come diceva lui, che una volta sembrava, adesso, anche se lo stanno nel cortile, andare con l'altalena è già una cosa bellissima, piuttosto di stare in casa. Diciamo che anche lì ogni fiera dobbiamo sempre portare qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo perché il cliente vuole qualcosa di diverso. Allora ogni anno inventiamo o cerchiamo di trovare qualcosa di diverso. Quest'anno la nostra proposta sono questi due piccoli gnomini qua.